È un festival dedicato alla figura di Fante, è un omaggio a Fante, è un omaggio anche e soprattutto a tutti coloro che sono emigrati da questa terra e da questa regione. Il festival quest'anno ha un programma importante anche e soprattutto per andare a valorizzare appunto sia i talenti della scrittura della regione Abruzzo ma avrà appunto diversi interventi di intellettuali italiani. Quest'anno è un anno importante perché si ricomincia dopo la pandemia, in tant'è che non so se avete notato ma c'è una giornata in più, un po' per compensare l'anno scorso e quindi quest'anno c'è tanto materiale, tanti autori, abbiamo aderito alla rete dei festival di Piazza Dante, quindi avremo anche un programma, una sezione su Dante, Dante e i bambini. Non è un caso perché una delle specialiste, ricercatrici più importanti di questo settore, quindi gli adattamenti di Dante per bambini è un'americana e quindi ci sarà Virginia Jewish, quindi America, John Fante è un americano, quindi noi è tutto molto collegato. E poi presenteremo Paper Dante, Disney e tante altre opere per bambini. Poi c'è una sezione sull'attualità degli Stati Uniti, quindi con vari studiosi, tra cui anche Andrea Purgatori che ci parlerà appunto dell'amico americano a una conferenza su questi temi. E poi ci sono i premi, quindi il premio alla carriera quest'anno va, che è un premio alla carriera Vini Contesa che abbiamo appunto istituito insieme a questa cantina che ha dedicato dei vini a John Fante, sarà Fabrizio Gatti e non a caso perché è appunto un reporter, giornalista, scrittore che ha descritto al meglio l'odissea degli immigrati del ventunesimo secolo, come dice giustamente la Mazzucco. Poi ci sono i premi all'opera prima, quindi con i tre finalisti, Frandino, Domini e la Urciolo, che sono davvero molto importanti. E poi concida De Gregorio che verrà finalmente a Torricella Peligna, l'abbiamo aspettato, ci piace questa giornalista ma anche scrittrice, quindi parleremo del suo ultimo romanzo proprio a Torricella Peligna.